Il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo, nomine i nuovi assessori. Dopo l'uscita degli assessori Teresa Palmieri e Giuseppe Troncore, sono stati confermati all'interno dell'esecutivo gli assessori Maria Antonietta Di Filippo, Claudio Aprea e Franco Sica. Nuovo componente della Giunta è invece Annalisa Gallo, già consigliere comunale della squadra Palumbo. Al suo posto, in consiglio comunale, entra Pasquale Accarino. Maria Antonietta Di Filippo è stata nominata vice sindaco, con delega ai rapporti Asalo-Salerno e ai rapporti consorsi intercomunali. Annalisa Gallo è stata invece nominata assessore, con delega alle politiche sociali, piano di zona, sanità e farmacie comunali. Claudio Aprea manterrà l'assessorato alla cultura, innovazione sociale e programmazione europea. Mentre Franco Sica manterrà le sue competenze sulla pubblica istruzione, sport e tempo libero, edilizia sportiva e scolastica e carnevale. Le delega precedentemente in carica agli assessori Teresa Palmieri e Giuseppe Troncone saranno in capo al sindaco Franco Palumbo.